L'imbocco da Campo Sant'Angelo di Cale del Caffettiere è chiuso. A garanzia della pubblica incolumità, un'ordinanza della Polizia Locale di Venezia ne ha interdetto la circolazione pedonale fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell'immobile da cui si sono staccati questi pezzi di mattoni che, frantumati dalla caduta dall'alto, giacciono ancora sui masegni. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Cale del Caffettiere non è una calle qualsiasi, è una calle in cui, tranne una famiglia, ci sono solo residenze turistiche, un emblema della piega che ha preso la città. Segnalata con un amaramente ironico striscione calle devenezianizzata, aveva quindi avuto un ruolo fortemente simbolico durante la manifestazione in cui, a 50 anni dalla legge speciale di Venezia, si chiedeva che in una città che, secondo alcune definizioni, perde pezzi, abitanti, enti e istituzioni, arrivassero e venissero spesi fondi per la salvaguardia della città. Cale del Caffettiere è ora chiusa al transito per la tutela dell'incolumità pubblica.